Il coronavirus sta mettendo in ginocchio anche il comparto della ricezione. Alberghi e strutture in queste settimane hanno ricevuto disdette cancellazioni in tutti i cluster del settore. Turismo, viaggi studio, settore anche business. Il fatturato dei pubblici esercizi in alcune aree è calato fino a raggiungere punte dell'80% e secondo stime di settore il rischio è di perdere nei primi quattro mesi dell'anno una cifra pari a 2 miliardi di euro. Se la situazione non cambia in fretta, dicono le associazioni di categoria, si parla di oltre 20 mila posti di lavoro a rischio. Venendo la situazione locale ciò che spaventa è il futuro, con una stagione turistica che è calendario alla mano e sui nastri di partenza con le festività pasquali del primo maggio alle porte, date in cui il turismo storicamente riaccende i motori con migliaia e migliaia di presenze sia estere che italiane. Ora tutto questo è solo una chimera e le uniche strutture aperte sono quelle che assicurano un minimo di servizio di accoglienza. A oggi abbiamo due strutture aperte che garantiscono il servizio a tutta la gente che dovrà arrivare, che arriverà per motivi di lavoro, per motivi sanitari a Fano. Noi abbiamo garantito due attività finora, sperando che cambi qualcosa ma noi la garanzia l'abbiamo data. In calendario c'erano molte manifestazioni che avrebbero creato flusso turistico, qual è la situazione per queste? È una disdetta continua di tutte queste manifestazioni, a livello sportivo avevamo delle manifestazioni molto importanti. Al di là della situazione contingente, i tavoli di lavoro delle associazioni cercano di elaborare anche strategie per il futuro con cui far superare la notte più nera che tutto il settore abbia mai attraversato. Abbiamo fatto una proposta a livello nazionale molto importante che è quella di detrarre tutte le spese a livello turistico se vieni a fare le vacanze in Italia. Tu italiano vengo in Italia a fare le vacanze e me le posso detrarre le spese come a livello farmaceutico, a livello medico. Quindi la risorsa è il turismo interno? In questo momento sì, perché a livello estero sarà una grossa difficoltà. Io mi auguro che vengano, però ci saranno grosse difficoltà. Quindi l'estate sarà un'estate di lacrime e sangue, è probabile? Spero di no, spero di no, spero di no. La vedo brutta in questo momento, ma noi, gli italiani stessi, si sono sempre rimboccati le maniche e hanno portato avanti con orgoglio il lavoro e naturalmente non solo il lavoro, ma anche ci siamo fatti vedere che siamo tutti uniti. Si vede anche qui la passeggiata, la gente deve rimanere a casa, sta a casa e bisogna essere anche seri su questa cosa. Grazie a tutti.